Ed ora veniamo alle notizie da San Michele al Tagliamento dove il sindaco Pasqualino Codognotto sarà docente nelle classi quarte e quinte delle scuole primarie e nelle classi prime della scuola media dell'istituto comprensivo Tito Livio di San Michele al Tagliamento. Il sindaco appunto sarà docente di un percorso di educazione stradale. In un periodo in cui le forze di polizia locale sono sempre più necessarie sul territorio l'amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento non dimentica l'attenzione per la sicurezza stradale intesa come informazione ed educazione rivolta ai giovani. In accordo con il dottor Gallo, comandante della polizia locale, sarà proprio il sindaco ad occuparsi di questo importante percorso educativo in qualità di responsabile della polizia locale. E quindi il sindaco Pasqualino Codognotto si terrà la lezione ogni martedì mattina e si sposterà da un plesso all'altro usando la bicicletta per dare un buon esempio.